Amici di Milan.soccer eccoci di nuovo insieme per un altro appuntamento dedicato ai più bei colori che esistano sulla terra, il rosso e il nero. Sì, l'abbiamo detto anche stamattina, l'abbiamo detto ieri, è un weekend un po' particolare, non ci sono partite, le notizie devo dire però che ci sono. Per fortuna che abbiamo questa modalità digitale per poter essere tutti insieme, chi da una parte del mondo, chi dall'altra, fatemi sapere nei commenti da dove state guardando e mentre fate questo se vi va iscrivetevi al canale, per chi non l'ha ancora fatto mettete un like, un pollicione a questo video e attivate la campanella. Allora, prepariamoci a tutto, prepariamoci davvero a tutto, per chi ha seguito le puntate precedenti, beh magari se qualcuno non ha seguito gli ultimi video metterò alla fine di questo quello che abbiamo detto, soprattutto stamattina, ieri, cioè che il Milan è assolutamente tranquillo nella propria posizione, ma è infastidito per una questione di comunicazione e abbiamo visto il perché, molti giornali, qualcuno in particolare ce l'ha con noi, e ancora nel caso in cui Federazione, UEFA non dovessero rispettare questo Milan, il suo blasone, la sua storia, i suoi tifosi soprattutto, la soluzione è insomma, Gerry Cardinale ha provato a dirla, quindi vi metto i due video alla fine di questo, ma arriviamo ad un'altra novità, che è quella relativa all'allenatore, io devo dire che c'è una prova di, provano a far pace, non è che abbiano formalmente, ufficialmente litigato, ma quando Gerry Cardinale disse in quel convegno, con presente anche Zlatan Ibrahimović, che non era soddisfatto, qualcosa si è rotto, ma nulla è chiuso, quindi nemmeno la porta ad Antonio Conte, nemmeno l'alternativa a Sarri, io la mia idea ce l'ho, l'ho espressa più volte, la ripropongo qui, per me il Milan deve andare nelle mani di Conte, ma non è tanto una decisione che non si può sapere, quanto piuttosto non si può sapere perché non si può prevedere il futuro, perché come detto il Pioli, comunque vincendo l'Europa League, comunque vincendo, o meglio, vincendo, arrivando al secondo posto, blinderebbe molto la sua posizione, ma questo non lo possiamo sapere, anzi, secondo me è cosa molto complessa, per cui abbiamo studiato nei giorni scorsi le alternative, ma c'è una novità che arriva sempre da New York, così come ha fatto sapere alcune cose nei video che ho detto, anche queste. Prima però lasciatemi dire che il Milan Primavera si prepara ad affrontare la semifinale di Hot League, sul suo cammino ci sarà il Porto, quindi segnatevi questa data, 19 aprile alle ore 17, al Colovray Sports Center a Nyon in Svizzera, il Milan incontrerà il Porto, lo dico perché dico tutte quelle che sono le competizioni prima squadra o primavera dove siamo ancora in corsa, quindi la primavera nella Yacht League sarebbe la Champions League dei giovani e ovviamente il Milan nell'Europa League, ma arriviamo al perché in realtà il buon Gerry Cardinale vorrebbe confermare Pioli. Quando si tratta di fondi, non si tratta di cuore, non si tratta di amicizia, lì sono solo i soldi quelli che contano e allora mi sono messo a fare un po' di ricerche e una ricerca mi è balzata all'occhio e cioè noi parliamo sempre del costo dei giocatori, ma ci chiediamo quanto costano poi gli allenatori perché se in Serie A, adesso andremo a vedere un attimo la classifica, c'è un certo tipo di trend, di andamento, nelle altre leghe Premier League, Liga, Bundesliga, Ligan, c'è una lista corposa e dove gli allenatori sono veramente molto molto cari. Quindi sapete chi è l'allenatore più pagato? L'allenatore più pagato? Voi direte subito, che ne so, il buon Klopp? No. Guardiola? No. L'allenatore più pagato, e faccio riferimento ad un dato del mese di settembre, quindi l'ultimo contratto per intenderci, è di 34 milioni di euro lordi che sono dati a il Ciolo, quindi a Simeone dell'Atletico Madrid. Ben guadagnati, caro Ciolo. A secondo posto, va bene, adesso al di là di quelli che sono ancora in panchina o quelli che non sono ancora in panchina, cioè quanto costano gli allenatori, Pochettino, di cui abbiamo parlato un po' tutti quando a un certo punto sembrava potesse essere un'alternativa a Pioli, Pochettino è uno che aveva un contratto con il Chelsea di 28,6 milioni di euro, 28,6 milioni di euro, secondo me, sopravvalutato. Pep Guardiola, che è sul podio ma al terzo posto, il suo ingaggio è di 22,6 milioni di euro, quarto Klopp con 17,8 milioni di euro, e Ancelotti? Per trovare il nome di Ancelotti dobbiamo leggere ancora quelli prima di Harry Potter, Graham Potter esonerato dal Chelsea, vabbè, lasciamo per degli esoneri, ma è ancora sotto contratto, tra l'altro, pensate quanto paga il Chelsea, di 13,5 milioni di euro, pensate quanto paga il Chelsea di allenatori, quindi noi non possiamo, nessuno di noi può competere con queste leghe e con la Premier League piuttosto che la Ligan, cioè solo di panchina il Chelsea avrà 50 milioni di euro di costo e poi il Bayern Monaco, il suo allenatore lo paga 12 milioni, iniziamo già a essere, come dire, Ancelotti invece 11 milioni di euro. Questi sono i più, diciamo così, quelli più cari. Ecco, se noi andiamo a prendere i nostri allenatori, ora qui faccio un discorso di una classifica di Serie A, però parliamo di netto, più pagati quelli della Serie A, quelli al netto. Massimiliano Allegri prende 7 milioni di euro, quindi diciamo che è quello più pagato, 7 milioni di euro, ma sullo stesso podio c'è José Murigno. Ripeto, lasciamo perdere chi è stato esonerato e chi meno, Murigno ha 7 milioni di euro, parliamo di netto, quindi all'ordo azzardiamo un 12, 12 milioni e mezzo, Simone Inzaghi è terzo, 5,5 milioni di euro, Milan quarto, Stefano Pioli 4 milioni, 4 milioni corrispondono circa 7 milioni e mezzo lordi, quindi per il Milan il costo di 7 milioni e 4 milioni, il costo di Pioli incide sul bilancio per 7 milioni e 400 mila euro. Ora, a 7 milioni e 400 mila euro non prendi nessuno, quindi se il Milan vuole prendere un allenatore, deve pensare che oltre a tirar fuori i soldi per un attaccante, oltre a rinforzare il centrocampo, oltre a rinforzare la difesa con un centrale, deve pensare di tirar fuori i denari anche per l'allenatore. E allora diciamo che più che altro stanno cercando di ricostruire un po' un'immagine, stanno dicendo che Pioli sta facendo bene, l'ha detto Zlatan, l'ha detto Scaroni, lo dice Furlani e poi se il destino volesse che magari vinciamo l'Europa League sarebbe osannato. Io personalmente non mi diverto quando vedo il Milan, cioè mi emoziono perché c'è il rosso e il nero, ma alcune partite mi sono piaciute, sono sincero, quella con l'Atalanta, anche quella col Paris Saint Germain, però in generale il Milan non ha mordente, cioè non gli si rimprovera il gioco, io personalmente nemmeno lo capisco più di tanto, ve lo dico con grande sincerità, il problema è che non vedo quel mordente che vedo negli occhi di altre squadre, di altri calciatori che sono anche stati nel Milan, eccetera, eccetera. Chiudo la classifica, tanto oggi domenica ci prendiamo due minuti di più, Gasperini 3 milioni, Sarri 3 milioni, Garzia sostituito da Mazzarri, 3 milioni Garzia, un milione Mazzarri, figuriamoci con un milione, che allenatore Tiago Motta, una pepita d'oro, due milioni di euro, Ivan Juric due milioni di euro, cioè siamo a un ottavo rispetto all'ultimo della Premier League, italiano che è un buon allenatore, un milione e sette, Ranieri un milione e mezzo, e poi Paolo Sosa un milione e due, Filippo Inzaghi 0,55, quindi prende praticamente un decimo del fratello, che prende un terzo dell'ultimo della Premier League, Marco Baroni del Verona che sta facendo un miracolo, un milione, Raffaele Palladino che è un buon allenatore, un milione, Dionisi un milione, Di Francesco 0,75, vabbè poi lasciamo perdere sotto il 0,75, sostituito da Cioffi 0,70, eccetera, eccetera, gli ultimi, sono Gilardino che sta facendo un ottimo campionato, zero, mezzo, 500 mila euro. Capite? Adesso bisogna guardare anche a queste cose, perché spariamo nomi, adesso viene fuori, che ne so, Wallace, 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 Wallace dell'Udinese, e l'abbiamo detto nell'ultimo video, noi sul mercato cambiamo un po', diciamo così, atteggiamento, dobbiamo capire bene, capire bene, capire bene, perché qui bisogna fare il bene del Milan, non sparare cose così tanto per... Buona domenica ancora, ciao! Ciao!